buongiorno amici di lolotube 75 benvenuti nel mio canale e come sempre se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi stiamo partendo per la direzione dei monti del frioli mezzo giuglia e in particolare tarvisio andremo sul monte lussari credo adesso vedremo tempo oggi bellissimo zero gradi un freddo cane nessuno ci spetterà credo è abbastanza neve se non si è scelta per di trovare tanta neve si vediamo tra un poco finalmente amici si cominciano intravedere le montagne manca ancora una settantina di chilometri e presto saremo arrivati nella valle di tarvisio finalmente dai speriamo di vedere tanto tanto meno di solito la valle di tarvisio una parte del monte non è sposta il sole e quindi dovrebbe se c'è ancora tanta ma tanto tanto non vediamo dai manca ancora poco e poi vedremo ed eccola qui finalmente la neve amici che bella era veramente da tanto ma tanto quanto tempo è sempre un ospedale farli tornare bambini tutti quanti mali a presto 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno ragazzi Oh madonna Perché l'ha stato smostrata No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vabbè da orsi Grazie a tutti Come se? Ma dopo sei dritto? Provemo? Provemo o no? Aspetta che prove, guarda, c'è sta roba No, 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 no Sì, un tocco di dentro, perché pensavo di aver fatto? Un tocco più sotto che fino all'alto, magari l'alto possa sapere. Sì, un tocco di dentro. 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 Vai! Sì, un tocco di dentro. Sì, un tocco di dentro. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.